isola prima notte insieme per marco e jonathan ferri con lui mi sento a mio agio l'ex calciatore l'esperto di moda sempre più complici sulla isola bonita sul web tifo per la nascita di una love story prima notte insieme per marco ferri e jonathan cascianian sulla isla bonita l'ex calciatore e l'esperto di moda si godono la vita sull'isola dei cam fort tra caffè sorrisi e chiacchiere e sono sempre più complici tanto che sui social c'è già chi spera nel più lieto dei finali martedì sera infatti marco ha deciso di portare con sé il compagno perché è la persona con cui è più legato in honduras ho scelto jonathan perché è il mio compagno di avventura numero uno la persona con cui mi sento di confidarmi con la quale quando dormo vicino mi sento più a mio agio jonathan ricambia l'affetto comunque secondo em andremo d'accordo in vacanza gli dice appena approdati e aggiunge ci piace fare le stesse cose con gli stessi ritmi sul web tifo per la ship jonathan sotto un treno per ferri scrive qualcuno jonathan sta esaudendo il nostro sogno una notte su un'isola deserta con uno gnocco come marco ferri scrive qualcun altro non solo anche paola di benedetto tempo fa aveva detto degli amici non starebbero male insieme